Hanno fatto molto discutere negli ultimi giorni. Le parole del padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne accoltellata e bruciata viva dal fidanzato il 24 maggio del 2013 a Corigliano. Il genitore infatti ha scritto una lettera al ministro della giustizia Alfonso Bonafede e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per protestare contro i permessi premio concessi a Davide Morrone, ovvero l'assassino della figlia, e il riferimento è a tre permessi concessi al giovane. Ci sentiamo distrutti e abbandonati da uno Stato che non ci tutela, ha scritto il padre di Fabiana nella missiva. Parole queste che non hanno lasciato indifferente il ministro della giustizia Bonafede, che infatti ha deciso di interessarsi al caso e di andare a fondo alla vicenda dei permessi concessi a Morrone. Il rappresentante del governo ha infatti incaricato l'ispettorato del ministero di compiere le opportune verifiche sul caso dei permessi. Vedremo quelle che saranno ore risvolte nella vicenda. Ricordiamo che nel marzo 2016 Davide Morrone è stato condannato in Cassazione a 18 anni e 7 mesi di reclusione.